Durante l'apocalisse zombie la razza umana si divisa in più fazioni, in perenne guerra tra loro. I nomadi si spostavano di accampamento in accampamento razziando e impadronendosi di qualsiasi risorsa necessaria. I religiosi invece fondarono il culto di Anthony Spectre e venerarono gli zombie come idoli sacri. Capitava che le fazioni si rifugiassero in basi vicine tra loro, troppo vicine, e a quel punto l'unica cosa da fare era farsi guerra, senza più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.